Hai sentito quello che dicevamo prima su Edoardo Prati? Sì, con grandissimo interesse, no, purtroppo no, ma devo recuperare, mi hai molto interessata. Io scopro, scopro, io scopro. Un Pippo Baudo! Sì, no, e diceva questa cosa, sei d'accordo? Che viene a mancare un sentimento comune perché ognuno di noi, tra l'altro la cosa che a me, che poi va bene, moriremo tutti, cioè io sono anche di questa scuola di pensiero qua, moriremo tutti, quello che faremo noi non rimarrà niente, beh, pazienza, è fine. Però la cosa che mi fa investialire è che siamo, mi sembra, molto egoisti con l'atteggiamento spocchioso di chi crede invece di star lottando per qualcosa. Assolutamente sì, non solo la perversione dei nostri tempi è che se vuoi la narrazione collettiva invece è che siamo in un momento storico, culturale, estremamente inclusivo, molto largo, dove parliamo di un noi, laddove una dimensione noicentrica invece è scomparsa completamente. A me tutto questo ragionamento che porti avanti da un paio di settimane manda proprio a rotella. Io ci sto lavorando da tempo perché poi da clinica, nello studio, vedo le derive, le conseguenze di dove ci sta portando tutto questo. Mi piace anche allargarlo su un piano psicosociologico, laddove la dimensione psicologica è in effetti quella del singolo. E poi in realtà tanti singoli fanno il noi, fanno il nostro momento storico e io ti porto a fare una connessione rispetto al fatto che la mia teoria su questo è che questo essere diventati non tanto secondo me, se posso permettermi, egoisti quanto egotisti. Perché l'egoismo se vuoi è una cosa anche buona, cioè significa che io mi occupo di me in modo che non sia a tuo carico, poi tu ti occupi di te e insieme facciamo qualcosa per noi. Invece questo essere ego riferiti a un'accezione negativa, che è bene sottolineare, che non va confusa invece col fatto che a me ci penso io, in modo da non dover richiedere dell'assistenzialismo. Però di fatto quello che sta accadendo è che nelle generazioni contemporanee, ti direi ancora non tanto la Gen Z quanto la generazione X, la conseguenza di tutto questo è una impossibilità ai rapporti interpersonali che intanto si riflette nel fatto che tu prendi un 27enne qualunque e mediamente o non ha mai avuto rapporti o ha avuto dei rapporti, ti parlo di rapporti affettivi, di rapporti sentimentali, ma questo si allarga anche ai rapporti amicali e poi ti faccio un passo indietro rispetto a da dove arriviamo, cioè i rapporti familiari, non hanno mai avuto rapporti, se ne hanno avuti sono rimasti estremamente in superficie, spesso, come già ti avevo detto, non arrivano, essendo così a pelo d'acqua, a incontrarsi nel letto e se tu chiedi loro, vabbè, senti, ma come avremmo fatto nella nostra generazione, prendiamo un lembo della coperta, facciamola facile, ma sei innamorato di questa persona? Non hanno idea di che cosa significhi, cioè non sanno nemmeno nominare quello che provano, perché? Perché non essendosi mai incontrati, se non una dimensione davvero molto corta, di individualismo molto spinto, ma se vuoi molto basso, molto poco generativo, che non produce niente, che non è creativo, che non ti spinge a incontrare l'altro, tu una connessione con un tuo simile non puoi trovarla possibile, perché non hai idea di che cosa tu vada cercando, non essendoti trovato. Quindi sentiamo molto poco perché di fatto siamo terrorizzati e questa anestesia del sentire serve per tenere a bada il sentimento e l'emozione principale di questo momento storico che è la paura. Di conseguenza i rapporti sono assolutamente impossibili, boicottati, sabotati, arriva da un non esserci mai identificati rispetto alla nostra famiglia d'origine, perché sono i figli di quei genitori molto diversi dai nostri che in effetti hanno prestato loro eccessivamente attenzione, pensando con questo di rendere loro un favore, quello che è successo è che l'unica relazione che hai è quella con i tuoi genitori. Poi anche lì, se vuoi, apparentemente autentica, in realtà fatta solo di un rapporto dove io sono la madre e tu sei il figlio, quindi non diventi mai il fidanzato di nessuno, l'amico di nessuno, l'amante di nessuno, il collega di nessuno e questo sta generando una patologia, ti direi quasi psichiatrica, collettiva, nella quale in effetti io penso di sentire solo me stesso, in realtà non sento niente, perché se sentissi sentirei una grande paura e una grande incapacità di stare al mondo, mondo nel quale ci sono gli altri. Io penso, però qui mi correggi tu, ti ho mai regalato, perché mi aveva fatto pensare a te, l'espulsione dell'altro di Byung Chul Han? Allora, sono piuttosto sicuro che me lo sarei ricordato, con un nome del genere, perché ti sarebbe anche piaciuto. No, non me l'hai mai regalato. Lui è un filosofo contemporaneo coreano, che ha Byung Chul Han, tanto adesso è in Galera. No, è alla cattedra di filosofia in una delle università di Berlino. Ti fai uno spelling veloce veloce che proviamo a dire... Byung scritto con la Ypsilon. Byung... Chul con CH. Cioè, fatto, fatto. Devo dire che con Byung non ci sono tante alternative. Byung Chul Han. Byung Chul Han. Ah, ok, sì, bravo, l'avevo detto giusto prima. Lui ha scritto l'espulsione dell'altro, dove in effetti teorizza in una maniera molto convincente come esistendo solo noi facciamo in modo che esista e si replichi sempre solo l'uguale, cioè qualcuno che di fatto è me e siamo impossibilitati a incontrare il medesimo, cioè l'altro simile. Allora, me lo hai di sicuro... Te l'ho regalato a Natale un paio d'anni fa. No, 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 me lo hai citato e l'avevo trovato forse anche in un altro libro di Guia Soncini perché mi ha fatto venire in mente quest'altro libro che ha scritto lui, La Società Senza Dolore. Ah, sì. Sì, assolutamente sì, è sempre lui. Ok, perfetto, bello. E quindi, secondo me, dobbiamo svegliare le coscienze e risvegliare i pensieri che lo so che sono spaventosi Ale perché se ti metti a pensare a questa roba qua poi non puoi più rimanere indifferente, devi far qualcosa. Questo far qualcosa ti spinge a uscire da casa tua, uscire da te stesso e andare là dove ci sono gli altri che sono portatori di diversità e che magari ti diranno delle cose che non ti piacciono tipo, te la meni per sta roba qui, guarda, eccessivo, senza che tu con questo allora ti debba sentire ferito o impermalosito. Eh, lo so. E questa roba qui sta, secondo me, diventando dal punto di vista proprio culturale e antropologico il tema del momento. se non ci ne occupiamo io penso che sia uno degli ultimi treni che possiamo prendere per salvare la nostra civiltà. che non ci si tratta di più